Buonasera, buonasera e bentrovati. Purtroppo la cronaca ci porta nuovamente a parlare di incidenti stradali e nuovamente a concentrarci su Bustrasizio, una città, anzi un'area che ultimamente soffre di parecchi scontri. Ieri sera alle 22.30 in Corso Italia un'auto si è ribaltata, i soccorsi sono intervenuti urgentemente perché tre persone tra i 30 e i 47 anni sono rimaste ferite. Inizialmente si temevano conseguenze ben più grave di quelle che poi effettivamente i soccoritori grazie al cielo hanno constatato. La seconda notizia di cronaca sempre per quanto riguarda gli incidenti e Bustrasizio riguarda invece un anziano di 89 anni che in via Silvestre questa mattina è stato investito da un'auto, è stato ricoverato in ospedale. Quindi ancora una volta notizie brutte dalla strada che riguardano Busto. Poi notizie invece diverse che riguardano la solidarietà, l'integrazione sociale, la lotta alle discriminazioni e alle barriere architettoniche. Ieri il ministro per la disabilità Alessandro Locatelli è stato a Gavirate, lo ha fatto in punta di piedi senza riflettori puntati ma con frasi molto significative rivolte ai Lions di Gavirate. Smettiamo di identificare la persona con la malattia o l'handicap che la affligge. La persona è persona e basta. Parole importanti quelle del ministro per la disabilità Alessandro Locatelli, la quale sabato alla larga da clamori riflettori ha incontrato i Lions di Gavirate condividendo spunti e riflessioni sulle prossime sfide di un cambiamento che prima di tutto deve essere sociale e culturale. L'esponente dell'esecutivo e della Lega, salutata anche dal governatore Fontane e dal presidente di Commissione Monti, è tornata al concetto su cui si fonda la sua missione istituzionale, ricordando che la disabilità non sta nel soggetto che ne soffre, bensì nel contesto che spesso ne imprigiona le libertà. Quando io esco, io anche Alessandra esco e per via di qualche difficoltà del territorio o delle persone non riesco a fare qualcosa, è lì che si evidenzia una disabilità che non è propria della persona. Non dobbiamo continuare a pensare che la persona è identificata con la sua malattia o con la sua disabilità, la persona è una persona, quindi così deve essere trattata e noi dobbiamo fare di tutto per eliminare quelle barriere che non sono solo fisiche ma sono anche spesso culturali, mentali, di approccio delle persone, in modo che tutti possano comunque godere della vita, dei pieni diritti alla partecipazione. E a proposito di integrazione, restiamo a Gavirate perché a pochi passi dal Ministro Locatelli andava a concludersi la quattro giorni organizzata dalla Proloco per raccogliere fondi a favore della Freerider Sport che ogni inverno avvia allo sci e non solo le persone disabili. Quattro giorni da ricordare a Gavirate per la Freerider, associazione che favorisce gli sport invernali delle persone disabili. Parola d'ordine, grazie. Prima di tutto tutte le persone che sono intervenute, quindi che hanno così accolto il nostro invito e poi naturalmente tutte le persone che hanno collaborato per far sì che questa festa, che queste giornate fossero veramente funzionali. Quindi a partire dalla Proloco di Gavirate che ci ha accolto qui nel suo parco, nella sua sede, quindi dandoci a disposizione tutte le loro strutture e addirittura anche ad alcuni dei suoi volontari. Tutto lo staff Freerider che ha risposto perfettamente. Il village con l'appetite, con l'ina, questa novità, questo ape, l'ina la spina, quindi che ha dato da bere a tutto il lungolago. Cosa dire? Meglio di così non poteva andare. E ora guardiamo invece al meteo, questo strano inizio di settembre con temperature più vicine all'agosto. Lo conferma il Centro Geofisico Perpino, che poi ascolteremo più diffusamente ma che già vi anticipiamo. Effettivamente le temperature attuali sono di circa 3 gradi superiori alla media. Per quanto riguarda il nostro territorio si va avanti così, fino alla fine della settimana. Le temperature particolarmente alte di questi giorni sono dovute alla presenza di un'area di alta pressione, un promontorio anticiclonico che dall'introterra africano si allunga e raggiunge addirittura le isole britanniche. Le masse d'aria così calde raggiungono la nostra regione, portano le temperature che in questi giorni sono state superiori al valore previsto per la prima decada del mese di settembre, che sarebbe 19,5 gradi. Questo valore è stato superato per quel che riguarda la media di circa 2-3 gradi. Le temperature massime si sono attestate in sui 26-27 gradi. Durante la settimana permane ancora quest'area di alta pressione, quindi le giornate saranno soleggiate, con zero termico oltre i 5.000 metri, un valore particolarmente alto in particolare per questo periodo. Non avremo precipitazioni, cosa diversa sul resto dell'Italia, dove abbiamo l'evoluzione di un'area di bassa pressione che porterà mal tempo. Torniamo alla cronaca, ma concentriamoci su Somma Lombardo, con una aggressione punita dai carbinieri e seguita a un diverbio stradale. Scaglia prima ha una grossa torcia e poi prende a botte una coppia di cittadini senegalesi a bordo di quello stesso autoveicolo che poco prima gli avrebbe mancato la precedenza. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Milano, a Somma Lombardo, quando un uomo di nazionalità rumena avrebbe perso le staffe dopo il lieveurto contro l'altro veicolo. L'ennesimo caso in cui un incidente stradale innesca una vera e propria rissa. Sul posto un'ambulanza e i carabinieri di Gallarate. Per l'autore del gesto violento è scattata una denuncia per porto abusivo di arma impropria. I due aggrediti sono stati trasportati all'ospedale di Bustorsizio, fortunatamente con ferite lievi. Buone notizie per Bustorsizio, con un nuovo corso sul fronte teatrale, un bel nome del settore e anche e soprattutto un ulteriore omaggio alla memoria della compianta, Delia Cayelli. È una novità davvero interessante che ci ricorda Chiara Milani. Facevo il liceo, gli ultimi anni di liceo, prima di partire per l'accademia, per la bottega teatrale di Vittorio Galsman, dove poi mi sono diplomato, iniziare la mia carriera professionale e ho fatto le prime esperienze sul palcoscenico nella compagnia di Delia Cayelli. Partito da Bustorsizio con la compagnia di Delia Cayelli e arrivato a calcare palcoscenici prestigiosi, oltre che a recitare in fiction di successo, Federico Grassi ha avuto maestri del calibro di Galsman, Strele e Refò. Ora torna a casa come neodirettore artistico della scuola di teatro intitolata alla sua prima insegnante. Una nuova realtà pronta a debuttare in piazza Plebiscito, dove sabato 16 settembre alle 16 si terrà l'open day. Vogliamo rivolgerci ai giovani che possano trovare uno spazio per crescere, per acculturarsi, per avvicinarsi a quest'arte magnifica, quella del teatro, che è soprattutto un percorso di autoconoscenza e di autocoscienza. Tre, le proposte. Un corso di avviamento per gli amatori, uno di perfezionamento per gli aspiranti attori e quattro masterclass per chi è già professionista. Penso anche di portare una testimonianza positiva e di riuscire a convincerli e a spronarli a delle cose fondamentali, ad essere seri e a lavorare, lavorare e lavorare. Sul fronte politico nel weekend appena trascorso, come sapete, il mondo intero si è concentrato su Cernopio, a Villa d'Este per il forum Ambrosetti. Tanti statisti, tanti ministri, tante autorità italiane e stranieri che si sono confrontate sul tema del momento. Tra i più attesi c'era sicuramente l'intervento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, che ha definito un mal di pancia gli effetti del super bonus. Vediamo. Mal di pancia. Questa è la reazione fisica, politica e pratica che la sola idea del super bonus edilizio provoca al ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti. Lo ha detto lui stesso, ospite e relatore al forum di Cernobbio, dove il numero due della Lega ha ribadito le difficoltà già affermate dalla premier Meloni. 20 miliardi di euro da pagare e altri 80 che aspettano di essere pagati. Questo è il regalo del super bonus che, afferma Giorgetti, l'attuale governo si è trovato sul tavolo. Parole che non sono piaciute a un altro ospite di Villa d'Este, Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle ed ex premier, nonché grande sostenitore del bonus. Grande attesa a Besano in tutta la Val Ceresio e non solo per la serata di venerdì, quando ospite del sindaco Moulas sarà Massimiliano Latorre. Ne abbiamo già parlato, si tratta di uno dei due marò che 11 anni fa furono imprigionati in India, diventando protagonisti, il loro malgrado, di una vicenda internazionale durata più di 10 anni. Venerdì 8 settembre avremo ospita a Besano il marò Massimiliano Latorre, che ricorderete essere stato suo malgrado protagonista della vicenda diplomatica tra Italia ed India nel 2012, insieme al suo comilitone Salvatore Girone. Sono contento che abbia accettato l'invito nostro a venire qui a Besano a presentare il suo libro, Il sequestro del Marò, perché a 11 anni di distanza possiamo parlare di quella scandalosa vicenda diplomatica che coinvolse il nostro governo e lo Stato indiano, per parlare di come realmente sono andati i fatti che tanto colpirono l'opinione pubblica all'epoca, la vicenda giudiziaria che finalmente si è conclusa l'anno scorso e per svelarci anche qualche piccola retroscena. Vi aspetto venerdì sera 20 e 45 a Besano in area Feste. E ancora sul fronte politico il Movimento 5 Stelle che ogni sabato mattina sarà in piazza anche a Varese per raccogliere firme a favore del salario minimo. 5 Stelle in piazza a Varese ogni sabato mattina, obiettivo raccogliere firme a sostegno della proposta di legge per il salario minimo. Perché vogliamo portare il salario minimo a 9 euro per tutti i cittadini, quindi questo ci consentirà in qualche modo di garantire i contratti pirati, in questo caso di sostituire e poter dare dignità ai lavoratori. Quindi questo è. Tenete presente che i 9 euro sono esclusi quelli che sono 13, 14 e TFR. Su 27 paesi della comunità europea praticamente sono 21 che hanno già il salario minimo. Di nuovo a Buster Sizio per parlare di commercio, per parlare di aggregazione sociale, di convivenza civile, di una città che cerca di animare anche le aree cosiddette periferiche, soprattutto se si tratta di aree storiche e culturalmente vivaci come Sacconago. Risultato? Tante persone in piazza e negozianti soddisfatti. Siamo molto contenti per l'ottimo riscontro. Non nasconde la soddisfazione il Comitato dei Commercianti e degli Artigiani di Sacconago, storico rione periferico di Buster Sizio, dove il primo fine settimana di settembre la gente si è riversata in strada per la tradizionale festa che saluta l'estate. Quest'anno il tempo ha aiutato, commentano all'unisono il presidente Paolo Crespi e il segretario Stefano Moretti, che ringraziando i volontari già pensano ai prossimi impegni. A Natale in piazza dovrebbe tornare l'albero griffato Tiffany, mentre la festa medievale di ottobre è in forse e potrebbe slittare in primavera. Giochi usati e piccoli commercianti che crescono, un bel modo per unire educazione e divertimento. Una montagna di peluche, i libri della prima infanzia, i giochi in scatola, ormai fuori età. Piccoli, grandi tesori in vendita per pochi spiccioli. Per svuotare la cameretta e far spazio ai nuovi giocattoli più adatti agli anni che passano in fretta, ma anche per imparare a guadagnare qualche soldino. Magari da investire subito per fare acquisti nella bancarella dei bambini a fianco. Con tanto di diplomino di partecipazione al Kids Market, promosso dal Comitato dei Commercianti del Centro Cittadino. Un evento che, ideato in tempo di pandemia, a Bussarsizio sta ormai diventando una simpatica tradizione. Nella pagina sportiva, prima di tutto il calcio. Vi anticipo che sono emersi ulteriori dettagli sul calendario, dopo quelli relativi ai gironi. Ne parleremo diffusamente domani. Nel frattempo andiamo a parlare della sconfitta incassata dai biancorossi e la Varesina sorride. Un passo indietro rispetto al debutto stagionale. Il Varese perde 2-0 il derby di Coppa Italia contro la Varesina e viene eliminato, mentre il sogno delle Fenici continua. Davanti a oltre 500 persone i biancorossi approcciano bene il match, ma come contro la Vogherese vanno subito sotto. Corner dalla destra, difesa immobile e zampata di Cosentino su cui Cassano non è perfetto. La reazione del Varese arriva e gli ospiti si divorano un paio di potenziali occasioni interessanti. Dall'altra parte Vitale accarezza il palo esterno. Nella ripresa i ritmi crollano. Una partita davvero sottotono scorre senza lampi fino al recupero. Quando Guidetti si inventa una punizione dalla linea laterale che inganna Cassano. Incrocio dei pali e tap-in di Oboe per il 2-0 che chiude i conti. Weekend a Gardolce per la pallacanestro Varese che ha chiuso la Valtellina Summer League di Sondor con una vittoria e una sconfitta. Al di là dei risultati del campo, la squadra indubbiamente vanta dei talenti, tante cose da raccontare, buoni auspici sul fronte competitivo, qualcosa da rivedere invece in fase difensiva. Peraltro l'atmosfera cestistica in Italia è davvero galvanizzata dall'impresa azzurra. Sapete che dopo 25 anni l'Italia, grazie al team di Pozzecco, torna ai quarti di finale e si giocherà domani. Quindi in bocca al lupo agli azzurri. Adesso invece tornando a casa nostra ci concentriamo sull'Occhi. È stato un weekend importante. Da un lato la partita vinta sulla scona, dall'altro il bagno di folla dei mastini. Vi raccontiamo tutto. Attacco e difesa, freschezza e gioventù, ma anche tanta esperienza. C'è un po' di tutto nei mastini di coach Szanetsky che coniuga perfettamente le qualità dei singoli nel concetto di squadra. È presto per i giudizi e gli avversari di livello devono ancora arrivare. Eppure il 6-1 sulla scona lascia ben sperare i tifosi. Davanti ai quasi 600 della 5 Ice Arena ha cominciato a prendere forma l'identità del gruppo. Difesa ordinata, solo una svista nel finale e attacco pungente per una squadra solida e precisa sul ghiaccio. Settimana importante a tinte Alps. Mercoledì il Cortina sarà ospite di Varese per la prestigiosa amichevole contro i francesi del Brianson, mentre sabato i mastini se la vedranno con il Fassa. Un primo assaggio di Cortina Varese del 16 settembre che assegnerà la Supercoppa. Si ritrovano in piazza Montegrappa come un gruppo affiatato di amici in partenza per un lungo viaggio e in effetti è proprio così, perché quello che attende i mastini dell'Hockey nella prossima stagione sportiva sarà il viaggio delle sfide e delle conferme di un team sempre più ambizioso e di un pubblico sempre più appassionato. In Camera di Commercio il saluto del presidente Mauro Vitiello, gli scongiuri davanti alle parole del sindaco Galimberti che invoca il triplete, gli applausi a quelle del governatore Fontana che crede nel futuro del ghiaccio avarese e poi la sfilata di giocatori e allenatore, la presentazione del ricco carnet di sponsor e partner pronti a sostenere l'impresa e i vertici della società carichi e convinti. Abbiamo fatto questa squadra costruita proprio anche per cercare di dare una continuità anche in termini di risultati e diciamo che ci siamo riusciti quindi siamo molto contenti. La città di Varese è una città dedita allo sport, i tifosi sono fantastici e quindi l'anno scorso abbiamo vinto tre coppe e la coppa della sportività e del pubblico ce la riconosce il mondo dell'Hockey e quindi è una cosa bellissima. Poche ore dopo la vittoria giallonera sulla scona conferma i buoni auspici. Avanti tutta Mastini. Mi fermo qui, il TG torna domani. Grazie a tutti. Buona serata. A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani nuvolosità irregolare al mattino, soleggiato, in giornata, asciutto. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi ma caldo soprattutto in montagna dove lo zero termico supera i 5.000 metri. Temperature massime previste tra 26 e 29 gradi.